C'è qualcosa che è cambiato? Il lavoro, per esempio. La gente non lavora più, la gente è in crisi e adesso a settembre penso che sarà dura, molto dura. I politici parlano ma non sanno neanche di che cosa parlano, ma questo è il guaio. La cosa di apprezzare delle cose che prima le davamo per scontato, anche soltanto un pranzo fuori con gli amici che era una cosa o una cena, adesso è più apprezzato e lo fai magari con le persone che vuoi proprio stare insieme. I miei familiari, sì, ho visto che loro soffrivano tanto, i miei figli soprattutto, che ovviamente non avevano una vita sociale, si sono anche tanto, diciamo, lastrecati dentro le camerette con i telefoni e con i computer. Quello è stato veramente brutto, veramente brutto. La situazione difficile mi ha insegnato il valore della solidarietà e di essere più comunità. Ma com'è che l'ha cambiata il Covid? Mi sono sentita un po' chiusa, un po' di, come si dice, no depressione, ma insomma mancato l'amicizia che avevo, ecco. E adesso sto ritornando alla normalità. Consapevolezza che comunque la nostra vita può cambiare da un momento all'altro e quindi chiaramente una visione del mondo e del futuro diversa. però onestamente anche il recupero di rapporti con le persone, una capacità di adattamento perché abbiamo dovuto imparare anche quello a condizioni diverse, che non reputo negativa, cioè positivo anche quello. Noi prima vivevamo pensando che tutto andasse sempre uguale, invece non è così. La storia avrebbe dovuto insegnarcelo, ma chi ha vissuto la guerra avrebbe visto ben di peggio. Per noi c'è stata la pandemia.